Da quando hai spostato i mobili non son più riuscito ad uscire Ci ho provato e ora resto a sedere mentre fisso il parquet Da quando ho più tempo per me non so più a chi prestare attenzione Resto ore a far colazione e non so che ora è Da quando hai spostato i mobili non son più a chi prestare attenzione Resto ore a far colazione mentre fisso il parquet Da quando ho più tempo per me non son più riuscito ad uscire Ci ho provato e ora resto a sedere ma è finito il caffè Dai! Contavo i giorni lontano da te Resto lievo Ad ogni giorno almeno un'ora Contavo i giorni lontano da te Resto lievo Ad ogni giorno almeno un'ora Contavo i giorni lontano da te Resto lievo Contavo i giorni lontano da te Contavo i giorni lontano da te Resto lievo Contavo i giorni lontano da te 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 Per che ruh c'è il tempo Riccardo i giorni lontano da te Contavo i giorni lontano da te Contavo i giorni lontano da te